Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato attaccato da un branco di cinghiali nelle campagne limitrofe alla cittadina di Cefalù, nel Palermitano. Con lui c'era la moglie che ha diverse ferite su tutto il corpo, ma è cosciente. L'aggressione alla coppia nei pressi di una fabbrica dismessa di ceramiche. Da tempo alcuni sindaci delle Madonie, soprattutto quelli dei comuni montani, segnalano i rischi dovuti al numero crescente di cinghiali nel territorio.